E non è facile perché è la squadra più difficile da incontrare, è la squadra più ostica perché è una squadra che magari non gioca benissimo a calcio ma non ti permette di giocare. Fa giocare male gli altri, è vero, è vero, è quello il problema. Diciamo che la Juventus in questo momento ha dimostrato anche contro Valencia a giocare 10 contro 11 fuori casa, ha dimostrato di avere la testa sulla Champions, però il fatto dell'Atletico è una brutta bestia, è una bella squadra, non gioca bene a calcio ma come dicevete prima non ti permette di giocare. Non devono sbagliare la partita, devono arrivare a questa partita con i giocatori in forma e non sarà semplice, però se la vuoi vincere devi vincere anche con l'Atletico. Ebbè, quello è fuori di ogni dubbio. Come ti dicevo, in Europa forse è l'unica vera grande squadra che pensa prima di tutto a non fare giocare gli altri. Sì, mi piace molto l'allenatore perché cambiano di solito tutti gli anni, cambiano tutti i giocatori migliori, però sono sempre lì.